Dov'è finito l'Hippop? Dov'è l'Hippop? Stop al microfono, un'altra volta al contesto Un contaflow ma la gente che si porta Ma quanto distrazioni fra commerciale e sottosuolo Uomo lo facessero tutti con passione Sarebbe anche un bene in fondo, sprofondo, depresso Confondo il senso profondo ma non lo concordo con altri Che vogliono il confronto, ma confrontarsi con se stessi Poi intorno, non esistono regole Una mentalità scritta ma troppa gente che poi se ne approfitta Cerca di difendere la reputazione Maschera un freddo all'interpretazione dell'arte che profetizza Chiudo, non precludo il futuro di nessuno Perché non sono nessuno Ma ascoltate le parole del testo Perché mi han detto che l'ascolto precede al consumo della matita E' sul resto mosto muto That's it Gino Eh che ne so, me la sto facendo Gino, guardate Gino qua Eh già, ho sbagliato Ora Vai Emma Ciao Grazie a tutti